Ok ragazzi, vi faccio vedere un gioco che si fa con una massa di carte, una scatoletta vuota e un accendino. Si pone così, si mette dentro, si mette la scatoletta, così. Le carte, semplicemente, tutto davanti ai vostri occhi, si dividono così, ecco, in questa maniera, così. E si mette la scatoletta con l'accendino, semplicemente. Ora, ovvia cosa, questo è importante che non c'è, è qua, qua, non sappiamo dov'è. Eppure, guardate, basta poco e non c'è non visibilmente. E chiaramente, trapassa la scatoletta.